buongiorno ragazzi questa mattina andremo a scoprire un nuovo laghetto si trova nel comune di prima luna e fa parte della società agricola trota della valsassina un posto fantastico dove imparare a pescare le trote e divertirsi in compagnia a tra poco eccoci arrivati in riva al lago il posto è veramente fantastico anche questo con circondate delle montagne acqua trasparente e limpidissima e trote bellissime ora proviamo a fare qualche cattura proveremo a pescare con il minov di roberto eccolo qua il piccolo minov veramente carino spettacolo 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 Hello, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no In this now